Nome? Nenad. Cognome? Sakic. Luogo e data di nascita? Khrushchevac, 15-6-1971. Da quanto tempo lavora nel mondo del calcio? Nel mondo del calcio lavoro da 14 anni, quindi ormai sono 30 anni che sono nel mondo del calcio. Prima come calciatore e adesso come allenatore. Come è iniziata l'avventura da calciatore? Che ricordo? Un amico di mio padre era allenatore e mi chiamò nella sua squadra e così cominciò a giocare. Da quanto tempo invece lavora alla Sampdoria? Alla Sampdoria come allenatore lavoro ormai da un anno, però ho giocato anche sei anni alla Sampdoria e quindi sono sempre stato un sampdoriano. Anche dopo sei anni che ho giocato, quando ho smesso di giocare, sono sempre stato vicino alla squadra e ho seguito alla grande. L'arrivo alla Sampdoria da Lecce, che ricordo ha? Mi ricordo che penso che era l'ultima partita che giocavamo contro Sampdoria, Sampdoria-Lecce qua a Marassi. Alla Sampdoria servivano tre punti per andare in Intertot Cup, se non sbaglio. Io feci una partita incredibile, finì 1-1, 0-0, quindi per quelli due punti non sono andati in Intertot. E poi passo alla Sampdoria, sicuramente. Invece in questo secondo arrivo alla Sampdoria, quando Mijalovic è stato chiamato per sostituire degli Orossi, come è nata la possibilità di tornare a Genova e quanto tempo hai impiegato ad accettare? Quando ho saputo che c'era questa possibilità di tornare alla Sampdoria ero molto felice, molto contento, perché vedo che la Sampdoria e Genova, Genova è la mia seconda casa, la squadra di cuore, che ho tifato anche quando mi sono andato via, quindi veramente un'enorme velocità tornare qua di nuovo come vice allenatore. E quindi per accettare questa proposta non ci ho pensato neanche un secondo. Un ricordo speciale che ti lega alla Sampdoria, visto che tu hai due momenti alla Sampdoria, prima da calciatore e poi da allenatore, facciamo due ricordi che ti legano al mondo blu cerchiato. Allora, il momento più emozionato per me personalmente è stato il gol che ho fatto, unico purtroppo, nella Sampdoria a Monza contro Pescara, campo neutro. Feci questo gol di test dopo una punizione, un cross. Per me personalmente questa è stata un'esperienza unica. Poi, come investe di allenatore, sicuramente l'esperienza più bella è stata sedersi sulla panchina della Sampdoria quando era scolificato Mijailovic a Roma contro il Lazio. Anche se il risultato è andato come è andato, abbiamo perso, però comunque è un'esperienza che non dimenticherò mai. Come vivi la partita ora da allenatore? Vivere la partita da allenatore è molto più diverso rispetto a quando giocava. Perché adesso, quando giocavi, pensavi solo a te stesso, perché comunque avevi i suoi compiti e facevi quello che diceva l'attore. Invece adesso devi pensare a un gruppo che è numeroso e quindi è molto molto più difficile. È sicuramente molto stressante perché abbiamo un mister che è molto molto esigente e quindi anche noi siamo tirati in ballo per fare le cose più belle che si possono fare. E quindi come abbiamo questo carattere di combattenti, di voler vincere sempre, per ora siamo riusciti. Poi continueremo così e vediamo dove arriveremo. Qual è il tuo ruolo attuale nella Sampdoria e in cosa consiste nel lavoro quotidiano? Allora, il mio ruolo è come vice allenatore di Mihailovic. Consiste di parlare tutti i giorni con lui, con gli altri ragazzi del gruppo. Quindi ogni giorno veniamo due ore prima dell'evento qua e prepariamo le sedute, parliamo di tante cose come giocare, chi fa giocare e tutto il resto. C'è anche un ruolo con la squadra da fare un po' da intermediario a volte? Perché so che i giocatori amano moltissimo Nenad Sakic. Sicuramente io cerco di dare il meglio di me stesso. Sono una persona tranquilla, però nello stesso tempo anche mi piace vincere. C'è un carattere vincente, posso dire, quindi mi piace vincere come il resto del nostro allenatore. Cerco in tutti i giorni, quando parlo con i ragazzi, di trasmettere questo carattere. Sicuramente per ora siamo riusciti a farlo. In tanti anni di carriera calcistica, prima da giocatore e poi da allenatore, è riuscito a instaurare delle amicizie vere Nenad Sakic? Sì, sì, sì. Ho non tanti amici perché avere tanti amici per me non va bene. Quindi ho pochissimi amici veri, però so che sono amici su cui posso contare su qualsiasi cosa. Sono rimasto in contatto con Bratislav Zivkovic, che conoscete, che ha giocato con me alla Samp. Sei anni, poi Darko Kovacevic, ex Juventus Lazio. Poi ho altri due o tre amici che i loro nomi non vi dicono niente, quindi non vi dirò. E poi, tre anni fa, ho conosciuto un altro amico che sapete chi potrebbe essere. Il nostro allenatore, Mijajlovic, che ha un rapporto ottimo con lui, una persona molto intelligente, un vero leader. Sei tornato a Genova a distanza di tanti anni. Come hai trovato la città? Qual è la zona che vivi maggiormente? Come occupi il tempo libero quando non sei impegnato a preparare gli allenamenti della San Nori? Allora, io anche quando giocavo abitavo a Nervi. Adesso abito a Quinto, più o meno la stessa cosa, e quindi sono sempre a quella zona là. Il mio tempo libero, mi piace molto giocare a tennis. Quando posso vado a giocare. Non è che ho giocato tante volte, però ho fatto qualche partita di tennis. Comunque dopo il calcio è la mia più grande passione. Poi ogni tanto vado a correre, guardo qualche film. Ecco, questo è, diciamo, il mio hobby. Un saluto ai tifosi della Sampdoria. Un grandissimo saluto di cuore a tutta la tifoseria sampdoriana. Siete grandi e sempre Forza Samp. Un saluto ai tifosi della Sampdoria.